Brumotti presenta Le News Eco Green, un viaggio nel mondo della sostenibilità. Ciao amici green, oggi sono qui con Francesco per parlarvi delle azioni virtuose di San Benedetto per ridurre le emissioni di CO2. Sì, abbiamo creato bottiglie funzionali e più leggere per utilizzare meno materia prima e scelto tecnologia all'avanguardia per ridurre le emissioni. Bravi, così si fa. Meno emissioni, più sostenibilità. San Benedetto Eco Green, proteggi la natura con noi.